Giovedì 16, 03 Prima registrazione del serale di Amici. Ancora da svelare le squadre e gli accoppiamenti tra i professori di canto e ballo. Manca solo una settimana all'inizio del serale di Amici 22. Domenica 12 marzo andrà in onda l'ultimo speciale e giovedì 16 sarà registrata la puntata con la quale il talent esordirà in prima serata. Il pubblico deve ancora assistere alle eliminazioni di Niveo e Benedetta, ma in rete circolano da giorni le anticipazioni dell'appuntamento che chiuderà la fase pomeridiana di questa edizione, 15 maglie oro assegnate dai prof, e una giuria esterna del tutto rinnovata tra gli ingredienti dello show che debutterà su canale 5 sabato 18 marzo. Aggiornamenti sulla programmazione di Amici. Domenica 12 marzo sarà trasmesso in tv l'ultimo speciale di Amici, quello che è stato registrato venerdì 3 e del quale sono disponibili tutte le anticipazioni da giorni. Tra meno di 24 ore, infatti, i telespettatori scopriranno i nomi dei 15 allievi che hanno ottenuto la maglia del serale. Visto che la produzione ha fissato un numero massimo di posti nel cast della nuova fase del talent show, i professori sono stati costretti a eliminare due titolari della classe. I meno votati, al termine dei 4 round della 23 a 100 circonflesso puntata, sono stati Niveo e Benedetta. La ballerina, però, non ha lasciato la scuola. Maria ha chiesto alla giovane di rimanere in casetta affinché Mattia possa avere una partner con la quale eseguire i passi a due di latino americano al serale. Chi è passato alla nuova fase di Amici? Dei 17 allievi che componevano la classe di Amici prima dell'ultima registrazione del pomeridiano, 15 sono stati promossi alla nuova fase e due sono stati eliminati. La commissione interna, infatti, ha detto sì a otto ballerini e sette cantanti. Si tratta di Mattia, Megan, Gianmarco, Ramon, Isobel, Samu, Alessio, Maddalena, Federica, Wax, Angelina, NDG, Cricca, Aaron e Piccolo G. Presto tutti questi talenti saranno suddivisi in tre squadre, le stesse che si sfideranno sul palco del serale a partire da sabato 18 marzo. I fan non vedono l'ora di conoscere gli accoppiamenti degli insegnanti. Ogni team avrà un prof di ballo e uno di canto come capitani, soprattutto per scoprire se ci saranno novità rispetto alle passate edizioni, oppure se verranno riconfermate le corazzate cuccarini Todaro, Zerbice Lentano. Se dovesse andare così, l'unica formazione inedita sarebbe quella Arisa Emanuello. Entrambi volti nuovi, e di fatto sostituti delle uscenti Anna Pettinelli, e Veronica Peparini. Chi darà i voti ai ragazzi di Amici? Se gli allievi promossi al serale saranno ufficializzati domenica 12 marzo durante la messa in onda della 23 a 100 circonflesso puntata. Un'altra parte del cast è già nota da giorni. Gli addetti ai lavori, infatti, di recente hanno svelato i nomi dei tre giudici che da sabato prossimo vedranno. Commenteranno e voteranno le esibizioni dei ragazzi in gara. Si tratta di una commissione esterna del tutto rinnovata e composta da Giuseppe Gioffre, ballerino ed ex alunno della scuola, Michele Bravi, cantautore molto stimato da Maria De Filippi, e Cristiano Malgioglio, autore musicale e già giurato di vari programmi sia Rai che Mediaset. Queste new entry hanno preso il posto del trio che negli ultimi due anni ha giudicato i cantanti e i ballerini di Amici, ovvero Stefano De Martino, Stasch ed Emanuele Filiberto di Savoia. A pochi giorni dalla registrazione della prima puntata del serale, uno componente della giuria è finito al centro dell'attenzione per un gesto social che in pochi si aspettavano. Michele Bravi ha iniziato a seguire su IG solo Angelina, Wax e Federica, ignorando per il momento gli altri cantanti del cast. Michele Bravi ha iniziato a seguire su IG.